Ciao, sono qui a Porto Marina e faccio questo video perché voglio condividere qualcosa che mi fa veramente riempire di gioia. Oggi ho cominciato ad invitare le persone sul gruppo, siamo già un bellissimo numero e mi è arrivato di fare una meditazione, un lavoro proprio per connetterci, per creare un'energia forte nel gruppo e soprattutto è venuto fuori qualcosa connesso proprio al progetto che mi è arrivato dagli esseri di luce, proprio di un risveglio diciamo molto molto espanso e quindi ho fatto questo video sul gruppo. Io non so se tu hai fatto già richiesta di entrare nel gruppo ma quello che ti suggerisco è se lo senti nel cuore perché stiamo sempre parlando di quello, se tu lo senti nel cuore, se senti che in qualche modo già solo il nome, già solo le cose che ti sto dicendo ti smuovono qualcosa allora fai richiesta, nel momento in cui tu farai richiesta riceverai delle domande molto semplici, compilale e una volta entrato leggi il regolamento perché ci sono delle regole molto serie perché è importante mantenere un'energia pulita in questo gruppo ed è importante che tutte le persone che siano all'interno siano lì per creare energia e per un intento comune, per l'intento proprio di ripulirsi, di lasciare andare il vuoto esistenziale, per sentire la pienezza della vita, per lasciare andare il dolore, per sentirsi bene in questa esistenza e per contribuire una volta che hai raggiunto questo risultato, portare un contributo anche a un livello molto molto più grande, ok? Allora ti saluto, ti auguro una serata meravigliosa e tanta magia e spero che tu senta il tuo cuore che palpita sentendo alcune di queste parole. Ciao, a presto! Grazie!